L'Empule è riuscita a conquistare una vittoria importante anche grazie a un tuo gol. Qual è il tuo commento su questa gara? No, secondo me è stata una grandissima prova di squadra ed è stato un mese abbastanza impegnativo finora e penso che questa sia una prova della forza e del carattere di questo gruppo e sinceramente mi sento solo fortunata di poter far parte di un gruppo così veramente mi fanno sentire a casa. Ecco, ti trovi bene quest'anno con la squadra? Quali sono le tue sensazioni sul lavoro, sulla vita che fate tutte le settimane? Sì, no, veramente la cosa più importante è lo spogliatoio e qua è un ambiente unico veramente. Io ho avuto la fortuna di giocare in parecchi posti ma ci sono pochi posti come Empoli. Dal primo minuto che sono entrata mi sono trovata a casa e questo è merito delle ragazze e di un gruppo spettacolare che poi secondo me alla fine si vede anche in campo. Quali sono i tuoi obiettivi da qui a fine stagione? Ma per me sinceramente è solo dare il tutto per la squadra e sono a disposizione del mister e voglio continuare a crescere come giocatrice però più che altro portare avanti questo bellissimo sogno con l'Empoli. Ecco, questo oggi era il tuo primo gol in Serie A e chiaramente è una grande felicità. a che idee di questa grande rete? Ma a tutti, c'è il gol mio ma poi alla fine anche di Au, cioè io ero solo lì a buttarla dentro quindi veramente era il gol della squadra, per per la squadra.